Avvocato Amoruso, in un'operazione di restratchering, qual è il contributo del dipartimento in house dell'azienda? Il dipartimento in house ha una funzione principalmente di raccordo tra il contributo fatto dal legale esterno e le funzioni tecniche della banca che si occupano della ristrutturazione e inoltre serve anche per veicolare determinati tipi di messaggio e soprattutto per tener conto e rappresentare in maniera corretta ai consulenti esterni quelle che sono le specifiche peculiarità o esigenze che la banca può avere. Grazie Avvocato.